L'estate è alle porte e in Sicilia si cerca di incrementare le misure per contrastare l'emergenza incendi. Potenziati mezzi aerei in azione su tutto il territorio siciliano per prevenire e fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi che ogni anno, in particolare durante la stagione estiva, colpisce l'isola. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha consegnato il servizio di noleggio di 10 elicotteri a un raggruppamento temporaneo di imprese che si è giudicato all'appalto di circa 7 milioni di euro per un biennio. Entro fine maggio saranno in servizio i primi 5 velivoli, mentre entro il 15 giugno sarà completata la flotta che sarà dislocata sulle basi elicotteristiche presenti nelle varie province dell'isola. Il governo musumeci, afferma l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Toto Cordaro, ha messo in atto ogni azione possibile per tutelare il territorio dei roghi, adesso tocca a Roma. Le condizioni meteoclimatiche, caratterizzate da alte temperature e da forti raffiche di scirocco, a causa anche dei cambiamenti climatici, potrebbero causare in Sicilia giornate difficili, come la scorsa estate, se non addirittura peggiori. Per questo, come ha già fatto il Presidente della Regione Musumeci, ribadiamo la necessità che la nostra isola diventi una priorità nazionale di protezione civile, che venga istituito un tavolo di crisi permanente per tutta la stagione a partire dal 1 giugno. Fondamentale sarà anche il contributo dei 90 droni già in possesso dell'amministrazione regionale, in servizio nei nuovi ispettorati provinciali per la prevenzione e la raccolta di informazioni. Proprio la settimana scorsa si è concluso a Ficuzza un corso di formazione su base regionale per l'utilizzo di questi mezzi.